Schultz non onora le istituzioni europee, non è un presidente di Parlamento decoroso, uno che dice queste cose ingerendosi in una campagna elettorale di un paese libero, democratico e sovrano come l'Italia. Fortunatamente gli italiani se ne fregano di quello che dice Schultz e votano liberamente e crediamo noi di vincere.